Per il centenario dell'impresa di fiume è stata organizzata anche una grande mostra a Trieste che si chiama appunto Disobbedisco con il comune di Trieste, è una mostra bellissima, riassuntiva dell'impresa fatta al Salone degli Incanti, cioè l'antica pescheria austro-ungarica di Trieste sul lungomare e abbiamo realizzato, visto che lo spazio era immenso, una specie di siluro di metallo imbullonato in modo che all'esterno vi ha l'impressione della guerra, del conflitto e anche un richiamo al futurismo, mentre dentro si entra in un'atmosfera ovattata, un po' buia, tipica della prioria della casa di Gabriele D'Annunzio con tutti i suoi cimeli. È una mostra molto bella, sarà aperta fino al 3 novembre e abbiamo realizzato anche questo bellissimo catalogo che oltre a centinaia di foto contiene testi inediti che ho scritto io. Grazie a tutti. Grazie a tutti.